Sulla prima crisi dell'era Toma non ha dubbi, si risolverà presto perché il Molise ha bisogno di stabilità. Facile non è anche perché si tratta di riuscire a fare sintesi e in alcuni momenti strategici anche dover saper dire no alle aspettative di qualcuno. Ma sono convinto che si riuscirà a rasserenare l'ambiente anche perché ritengo che il Molise abbia bisogno di stabilità. Paolo Frattura oggi è un imprenditore felice ma la politica ci pensa perché ce l'ha nel sangue come suo padre del resto. La sua è stata una legislatura travagliata caratterizzata da alti e bassi e da un rapporto non facile con alcune anime del suo partito che prima lo hanno sedotto ed eletto al leader, poi bombardato e abbandonato. Tracciare un bilancio ora non avrebbe senso, tuttavia una cosa bisogna riconoscergliela. Ha avuto il coraggio di mettere le mani laddove altri hanno temporeggiato e rinviato lo studio e la risoluzione del problema. Ovviamente parliamo di sanità, dei debiti creati con una gestione allegra che ha fatto indignare Roma e i molisani e di un sistema che non funzionava e ancora oggi non funziona. Dall'ospedale al territorio, questo il caposaldo della rivoluzione fratturiana. L'assistenza sanitaria si fa sul territorio, in ospedale si curano le acuzie, il soggiorno in ospedale deve arrivare a 5-6 giorni massimo per i pazienti. Questa è la chiave di svolta della riorganizzazione sanitaria alla quale abbiamo lavorato, deospedalizzando la sanità molisana e investendo molto sul territorio. Ritengo che questa sia la medicina giusta per la sanità molisana. Fa bene Toma a impugnare il provvedimento di nomina dei commissari? È giusto che il governatore eletto dai cittadini rappresenti la regione in quanto governatore e rappresenti il governo per l'attuazione del piano di rientro in quanto commissario, assumendosi le responsabilità del doppio ruolo. Laddove il governatore e commissario non dovesse dimostrare al governo le capacità di portare avanti il contratto firmato tra regione e governo, allora è giusto che intervenga la sostituzione del governatore con un commissario tecnico. Nessuno potrà mai rimproverargli la mancanza di impegno, forse spesso eccessivo. C'è una cosa che non rifarebbe, me ne dica soltanto una. Diventa difficile, non ne rifarei tante altre. Ecco, una c'è, l'aver trascurato gli affetti più cari, aver tolto tempo alla famiglia, aver trascurato il rapporto con la mia compagna, aver trascurato il rapporto con i miei figli. Questo è sicuramente quello che non avrei dovuto fare in questi cinque anni. Nel giorno di Nicola Zingaretti in Molise, a Isernia, non sceglie le persone, ma il progetto. Buono, Facciolla, Durante. Frattura per chi vota? PD. PD. Continuo a dire PD e continuo a dire che sintesi di tre proposte oggi forse è difficile, però fino all'ultimo momento è bene lavorarci. è chiaro che rispetto all'eventuale contrapposizione di tre proposte, con qualcuno che continua a lanciare strali contro un passato, va da sé che aver lavorato con uno straordinario amministratore, qual è Vittorino Facciolla, in quanto vicepresidente, mi porterebbe inevitabilmente e naturalmente a sostenere la sua candidatura. Ma l'idea invece di fare il tifo tutti insieme per un PD unito e compatto, che superi addirittura anche lo strumento delle primarie, laddove la lungimiranza riuscisse a portarsi alla soluzione unica di sintesi fra le tre proposte, sarebbe sicuramente la soluzione da me più gradita. PD che deve superare le primarie e ritrovare compattezza, per questo per Campobasso e Termoli, in vista delle amministrative, punterebbe su Battista e Sbrocca. Io ritengo che l'uscente, salvo errori gravi, vada comunque riproposto. Sulla base anche di un'attenta valutazione del lavoro svolto, con un rendiconto di mandato, pensare di cancellare cinque anni di guida di centro-sinistra, ritengo così, Tamblé, solo per il gusto di cambiare, non credo che possa essere portatrice di buoni auspici per il futuro. Il suo non è stato un addio, ma un arrivederci, perché la politica, se ti prende, non ti lascia più. Oggi vivo la politica da cittadino, da imprenditore, con l'auspicio che, così come ho avuto la possibilità di leggere in uno straordinario articolo a firma di Enzo Manes, possa tornarsi a parlare, non dello spread, in termini di differenziali di rendimento legato alla fiducia degli investimenti, ma in termini di spread civico, fatto di valori, di socialità e solidarietà. Mi piace questo virtuale passaggio di confini.